Sì Giancarlo? La richiamata in questo momento, appena messo giù, è venuto l'intervento. Scusami, non ho capito. Ok, mi hai sentito? No, non ti ho sentito, cosa ha detto? L'ha richiamato e le ha detto? Lui l'ha richiamata, l'ha fatta uscire nonostante stesse facendo l'intervento e gli ha detto tutto a posto. Allora lei l'ha ringraziato, gli ha detto guarda poi magari sentiamo un attimo ma anche con lui, al limite vogliamo fare un'intervista, qualcosa eccetera eccetera. Io non so dirti che cosa lui dall'altra parte del questo dicembre. Certo, certo. Lei l'ho ringraziato molto. Benissimo, ok grazie, ciao ciao ciao.